Oh, eccoci qua, ricominciamo da dove ce l'avamo lasciati Allora Una nuova fazione immersa Gli stati crociati Aha Ehm, Orlean è stato assedi Abbiamo preso uno standard e portato a 10 Abbiamo acquisito un nuovo mercante Conrad di Coln, ah Interessante Ho ereditato Conrad, quindi Allora, questo lo andiamo subito a sistemare 57, 12 71, che non è male 104 119 Interessante Rapporto, meno 1545 Abbiamo costruito Gli allevamenti di cavalli Ok, miss Ancora niente Devo aspettare, sì Ken Ok Amien Liege abbiamo riaddestrato Ok, Liege abbiamo riaddestrato le truppe Prem Cresce Grazie a Gli schiavi Per parentesi In virgolette Non male, non male Annunci della corte Conan Un giullario Un giullario Un minestrello Trattato di pace tra Inghilterra e gli irlandesi Tolosa e Denia Barcellona e Denia Allora, guadagno 6.000 che non è male Eh, qui vanno riaddestrate molte truppe Signore Qui sarei tentato di prendere un'altra unità Eh, hanno unità di fanteria veramente buone Signore 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 Io non ho questo granché Cioè Ho Questi che sono forti E questi A vos ordres Vos ordres Signore Vos ordres 9-1-24-8 Eh, 9-1-24-8 Hanno un più alto morale Effettivamente Vabbè, questi mi attaccano Parigi Signore Oui, mon roi Eh, passiamo per di qua Quanti cavalieri sono questi? A vos ordres Tre cavalieri Due fanti Ok Oui, signore Allora Vos ordres Mon roi Non avevo un diplomatico da qualche parte qui a parte lì Allora, proviamo ad andare a Erfurt Vediamo se adesso mi accettano una pace Seid ihr gekommen Den Kaiser Um Vergebung Zu bitten? Vi offriamo un trattato di pace Dammi 1-4 Nicht ganz etwas, das ich annehmen kann Wir trauen euch nicht Daher bietet ihr besser etwas Sinnvolles an Da misi 100 Nein, ich werde nicht akzeptieren, wovon ihr sprecht Allora Oui, mon roi Je sollicite une audience Bonjour, mon ami Que pouvons-nous faire pour vous? Gentilmente Mi attaccheresti L'Aquitania Dov'è l'Aquitania? Eccoci qua Ti do 1.200 Che ne dici? Insomma, sei inutile Sì, Aquitania Anjou Sei inutile Anjou Inutile Eh, qui non so se arruolare truppe Eh, tre cavallieri Non so, pochi Signore 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 Questo quattro non mi preoccupano Eeeh, qui Non è che posso fare una spia in più, magari? No Madonna, c'hanno le macchine d'assedio Baliste, catapulte Manganelli Mio dio, ho fatto Un po' l'acqua giù Allora, la questione qui adesso è 326 per addestrare queste due Però forse non mi conviene Allora Questi potrei farlo Ah, facciamo che qui Prendiamo uno di questi Sì E stiamo a 11 E qui a colonia Chi potrei riaddestrare? Ho 291 Ok Qui sarei tentato di fare un attacco Non so se è una mossa rischiosa Almeno due cavalieri ci sono Più generali fanno tre Vos ordri? Io ne ho tre Due fanti decenti Tre messi in croce così Un po' gli archi ma non saprei Ok Oui, mon roi Oui, signor 12 Preto a servir Signor 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 Me la rischio È un parolone Vos ordri Ah beh, me la rischio A la battaglia Per il re Per la france Tre unità di cavalleria Al resto è tutta fanteria Ok, schema molto semplice Qui abbiamo i nostri mercenari italiani Unito Avanziamo di poco Possibili corrono sempre Fortuna che non hanno E' tanto giro Corre, le corre, le corre ai 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 Perchè, ragazzi! Puoi attaccare questo No, 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 no Stiamo accassionando Ok, questi due Aspetta che Ehm, attaccatemi questi Cavalleria Anzi, attacchiamo questo Il signor William Ti prego, dimmi che non è il mio Per un attimo ho temuto il peggio Allora Cavalleria Ci rischieriamo sul fianco Panteria Siamo in linea di questi Ok, questi sono in fuga Questi caricano questi Ok Dategli giù con queste palestre C'è stato un crollo Vedo qui a causa della Cavalleria nemica Molto comprensibile Alla combattere Guardarti Ok Pausa Ah, la cavalleria qui più o meno sta lavorando bene Ok, questi ce li abbiamo Vai Vai Ah, qui gli standi grunieri Favoli ma sempre Ok, continuiamo, continuiamo Anéanticele! General! Anéanticele! Anéanticele! Carica, carica... Unite! 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 Anéanticele! Non, perci... Dispersez-vous! Anéanticele! 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 Ok, gli ultimi rimasti... Anéanticele! Un bel campo di battaglia abbiamo lasciato... Sì, qui mi hanno un po' fregato con la loro cavalleria... Ma per il resto un tappeto di morti... Aguitani! Unite! Unite! En avant! Ah, dai ragazzi! Victoire! 151! 689 massacrati da me! Qualcuno l'abbiamo recuperato... E va bene... Ottimo lavoro della cavalleria come sempre... Anche la fanteria si è comportata bene, devo essere onesto... Tutti massacrati questi... Oh... Cos'è? Vabbè... Non capisco perché vedevo tutta la mappa... Ok... Vittoria! Una grande vittoria, mi pare di capire... Ehm... Scidiamoci un attimo... Sì, una grande vittoria! Bellissimo! Meritatissima! Vittoria! Ok, tu stai fermo qua... Tu vai qua... Qui non posso riadestrare niente Ma va bene così Questi però Ah no sono diversi Perché questi sono sergenti Questa è milizia Ecco Era meglio incontrare Ok direi che ci siamo Vittoriosi in battaglia Scout crociato Eh è questo Penso sia questo Più uno Credo sia di questo Ecco perché vedo di più Ok Un'armata nemica irrotta E abbiamo preso un altro standardo nemico Meglio di così Oddio Si potrebbe fare però Ci stiamo andando Abbastanza bene qui Questo C'era prima? Si Ok il territorio È sempre questo Passiamo il turno Vediamo che succede E concludiamo Ricordiamoci che abbiamo sempre qui un emissario Voglio mandarla a Venezia Ma a Venezia Cioè a Verona Però a Verona È incapacitata al momento Ok questo c'è Questo c'è Questo ci ho provato E non mi ha detto niente Passiamo Come previsto La Borgogna Mi dichiara guerra Assediandomi Parigi Dai Borgogna Eh confabulano lì sul ponte Truppe del Sacro Romano Impero Ah lì avevo altri emissari Ok Ok Eh sì Immagino che questi vogliono mandarli a questi Ma ci penso io Arrivano rinforzi Questo è squarnito Oui mon roi Sì Potremmo avere questi Effettivamente Allora innanzitutto Prendiamo questi A la bataille Pour le roi Pour la france Nous sommes victorieux Gloire a la france A vos ordres Ok Avevo visto un diplomatico Da qualche parte A parte questo Oui mon roi Très bien seigneur C'est un honneur Seigneur Traiter avec vous Et a mes yeux Une perte de temps Qu'è ne dice Un trattato di pace Un trattato di pace Contiè vous nous insultez Avec cette offre ridicule Ok Allora Mon roi Seid ihr gekommen Den Kaiser Um Vergebung Zu bitten Trattato di pace Pagamento Un trattato di pace Un trattato di pace Nicht ganz Nicht ganz akzeptabel Mein Freund Tragt vor Was ihr auf dem Herzen habt Nicht ganz etwas Das ich annehmen kann Wir trauen euch nicht Daher bietet ihr besser Etwas sinnvolles an Nicht ganz Tragt vor Was ihr auf dem Herzen habt Nein Ich werde nicht akzeptieren Wovon ihr sprecht Certo Questi costichiano Però Ok Eh Queste so tre Mi piacerebbe prenderle Questa è In continua rivolta Ben gli sta Ah giusto Kaiser Eröffne Eine neue Handelsstraße Spero il prossimo turno Mi dia soldi Questo mi da zero Come mai Questo mi da zero Prêt a Fert Fert Non Ok Abbiamo fatto Gli arcieri di Ruon Eh si Qui sarebbe bello Una battaglia Ok Notizie dal mondo E direi che possiamo Concludere Pamplone Pamplone in guerra Con Aragona La Borgogna In guerra Con la Francia Caracanide In guerra Con il Grande impero De Seljukidi O l'impero Dei grandi Seljukidi E l'alleanza Con la Carinzi E la Baviera È sfumata Sì Sarai tentato Mon roi Je sollicite C'è qualcosa Che posso fare Per voi Nobile Signore Informazioni Geografiche Novecento Generoso Regolare Tributo Di cento Per Cinque Turni Non possiamo Proprio Accettarlo Che cosa Vorreste Discutere Con me Informazioni Geografiche Informazioni Geografiche Trecento Ok Vieni Dici Sembra Che abbiamo Raggiunto Un accordo Bene Sì Sono allevati Del sacro Amore Impero tedesco Vabbè Però Ok Ok Anche questa Di Venezia Proviamo Andare In Ungheria E direi Che ci possiamo Fermare Qua Allora Questo Mi serviva Per fare Questo Mi pare Questo Sì 2004 E lo facciamo Ancora Due turni Facciamo Il castello E qui Un porto Non sarebbe Male 2000 2005 2000 1800 2000 Ci devo Ripensare Un po' Su queste cose A questi Che stanno Fermi Forse Forse Li potrei Mandare A Utrecht La conquisto E mi attesto Qua Volendo Potrei Saccheggiare Munster E Groningen Magari Li cedo A O Gli udiciani Forse Un po' Troppo Allora Visto Che tu Giaste Qua I Sassoni Devono Essere Da qualche Parte Strano Che Non Guadagni Niente Kaiser Vabbè Sì Ci penseremo Su Allora Concludiamo Qui il video E Un buon Natale A tutti